E' un progetto che è stato realizzato dai nostri tecnici, dall'ingegnere Ferretti e penso che questo serva per sottolineare l'importanza di mettere in rete le esigenze dell'emergenza non solo sanitaria ma anche del soccorso pubblico, dei vigili del fuoco, della sicurezza pubblica, quindi polizia e carabinieri, con una centrale qui ad Ancona che opera per entrambe le regioni ma che travalica anche addirittura le nostre due regioni arrivando persino in Toscana dove se ne presentasse l'esigenza. C'è da aggiungere che soppianta sostanzialmente una moltiforme organizzazione del soccorso che era caratterizzato da numerosi numeri che continueranno a funzionare ma che coinvolgeranno tutti nel 112. Nella regione Marche e nella regione Umbria partirà questo servizio dal 10 di dicembre, quindi fra pochi giorni, e incomincerà a funzionare per i prefissi telefonici della provincia di Ancona, quindi lo 07-1, 07-3-1 e 07-3-2, quindi praticamente la zona Iesi, Fabriano e Ancona. Significa avere la possibilità di fatto di aiutare moltissimo le forze dell'ordine nella localizzazione. Poi vengono attivati tutta un'altra serie di servizi che sono per esempio, nel caso degli ipodenti, ipovedenti, sistemi di messaggistica che consentono anche alle persone disabili di comunicare con la centrale. Di tutti i distretti della regione Marche e della regione Umbria avverrà entro il 30 marzo del prossimo anno. Quindi dal 30 marzo del prossimo anno tutte e due le regioni saranno completamente allineate su questo nuovo numero di emergenza europeo.